Devo dire che io più che centrare la cosa su eccezionalismo sì, eccezionalismo no, proverei a vedere come dal punto di vista della costruzione di un sistema di relazioni internazionali e concettualizzazione di questo sistema, noi troviamo dei momenti di comparabilità e dei momenti di diversità rispetto, se vogliamo, all'Europa, al sistema europeo, alla cultura europea delle relazioni internazionali perché questa questione dell'eccezionalismo, secondo me soprattutto quando si entra nel campo delle relazioni internazionali diventa una questione che rischia di essere più, come dire, fuorviante che positiva dal punto di vista definitorio perché in qualche modo troppo limitata, troppo stretta come angolazione d'osservazione. Anche se sicuramente ci sono, in una certa misura si ripresentano, per certi aspetti addirittura crescono delle peculiarità statunitensi nell'approccio alle relazioni internazionali, per altri no. e quindi mi sembra più interessante provare a seguire alcune categorie un po' più facilmente definibili e vedere come attraverso queste categorie, e come queste categorie le possiamo, diciamo, snocciolare nel tempo il problema della peculiarità o unicità o eccezionalità statunitense affiore in alcuni momenti si afferma in altri, appare meno rilevante in altri ancora. Queste categorie che proverei ad usare sono fondamentalmente quelle più specifiche di qualsiasi discorso sulle relazioni internazionali, cioè gli interessi, l'interesse o gli interessi i valori, l'esperienza, l'accumularsi di esperienza storica e, cosa che ritengo cruciale per qualsiasi valutazione su una peculiarità statunitense o meno, l'interazione con gli altri soggetti.